Cari bambini, conoscete la lettera A? A come ananas, A come astronauta, A come aquilone, A come aereo, A come anello, A come arancia, A come anatra, A come annaffiatoio. Cari bambini, conoscete la lettera B? B come banana, B come barba, B come buffone, B come bassotto, B come bicchiere, B come bicicletta, B come berretto, B come barca. Cari bambini, conoscete la lettera C? C come camaleonte, C come cowboy, C come cactus, C come conchiglia, C come carota, C come cuore, C come casa, C come candela, C come candela. Cari bambini, conoscete la lettera D? C come corte bambini, conoscete la lettera C? Bambini, conoscete la lettera C? Di come due, di come dente. Cari bambini, conoscete la lettera E? E come elefante, e come erba, e come elmo, e come scavatore, e come elicottero, e come elica, e come stintore, e come esercizio. Cari bambini, conoscete la lettera F? F come formica F come fiore F come fumetto F come ferroviario F come famiglia F come formaggio F come flauto F come Francia Cari bambini, conoscete la lettera G? G come gatta G come girasole G come golf G come giostra G come giallo G come giraffa G come grillo G come grappolo G come grappolo G come grappolo G come fai G come hotel G come hotel G come husky G come hollywood G come hamburguer G come hollywood G come hollywood Cari bambini, conoscete la lettera I? G come figlia G come choisi G come university G come fifty G come baie Kid G comeThere I come indiano, I come Inghilterra. Cari bambini, conoscete la lettera J? J come Juventus, J come jeans, J come jogging, J come judo, J come jumbo jet, J come jackpot, J come joystick, J come jolly. Cari bambini, conoscete la lettera K? K, K come koala, K come kiwi, K come ketchup, K come karaoke. K come Kung Fu, K come King Kong, K come kebab, K come kimono. Cari bambini, conoscete la lettera L? L come leone, L come lattina, L come lepre, L come legna. L come lilla, L come latte, L come limone, L come livella. Cari bambini, conoscete la lettera M? M come me, M come mela, M come macchina, M come monociclo, M come mano. M come muro, M come mais, M come mulino, M come miele. Cari bambini, conoscete la lettera N? M come leone, N come nano, N come naso, N come nove, N come noce. N come nave, N come nuvola, N come nido, N come nota. Cari bambini, conoscete la lettera O? O come orso, N come oro, N come orologio, N come olio, N come orecchino, N come oliva, N come oca, N come ovino. Cari bambini, conoscete la lettera P? P come pesce, P come pallone, P come pane, P come pompiere, P come porcellino, P come pirata, P come palloncino, P come palma. Cari bambini, conoscete la lettera Q? P come quaderno, P come quaderno, P come quiz, P come quadro, P come quarzo, P come quercia, P come quotidiano, P come quadrifoglio, P come quadrupede. Cari bambini, conoscete la lettera R? P come orso, R come R? P come Pilberg, conoscete la lettera R come tigli, che deve cadere per rivoli S thiassati a corruzione, P come cowrio, N come franza, R bezo. Ruota r例ba chatur poszatounes, P I C A H R R come rana, R come rosa. Cari bambini, conoscete la lettera S? S come scuola, S come semaforo, S come serpente, S come sole, S come spiga, S come scarpa, S come sedia, S come squalo. Cari bambini, conoscete la lettera T? T come triciclo, T come telefono, T come tamburo, T come tenda, T come tappeto, T come tavolo, T come torta, T come tigre. Cari bambini, conoscete la lettera U? U come uovo, U come uccello, U come uomo, U come ufo, U come unghia, U come uva, U come uncino, U come uragano. Cari bambini, conoscete la lettera V? U come uovo, U come vulcano, U come vaso, U come violino, U come vacanza, U come valigia, U come verde, U come vasca, U come vestito. Cari bambini, conoscete la lettera W? W, W come Vavve, W come Walkie Tokie, W come Vatusso, W come Fustle, W come Wrestling, W come Windsurf, W come West, W come Falzer. Cari bambini, conoscete la lettera X? X come Xilofono, X come Xrei, X come XL, X come Xilitolo, X come Xilofono, X come Xrei, X come XL, X come Xilitolo. Cari bambini, conoscete la lettera Y? Y slope non come io... Y come jroct Y slope non come yogurt Y slope non come yetic Y slope non come yoga Y slope non come jag Y slope non come Y 씨가 Y slope non come yorkshire Cari bambini, conoscete la lettera Z, Z come zucca, Z come zebra, Z come zaino, Z come zanzara, Z come zattera, Z come zuppa, Z come zampa, Z come zucchero. Così è troppo veloce! Proviamo a riniziare da capo! Cari bambini, conoscete la lettera A? A come ananas, A come astronauta, A come aquilone, A come aereo, A come anello, A come arancia, A come anatra, A come annaffiatoio. Cari bambini, conoscete la lettera B? B come banana, B come barba, B come buffone, B come bassotto, B come bicchiere, B come bicicletta, B come berretto, B come barca. Cari bambini, conoscete la lettera C? 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 H? C? 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 Mandela Cari bambini, conoscete la lettera D? Di come delfino, di come trago, di come dromedario, di come Tito, di come dato, di come denaro, di come due, di come tente. Cari bambini, conoscete la lettera E? E come elefante, e come erba, e come elmo, e come scavatore, e come elicottero, e come elica, e come stintore, e come esercizio. Cari bambini, conoscete la lettera F? F come formica, F come fiore, F come fumetto, F come ferroviario, F come famiglia, F come formaggio, F come flauto, F come Francia. Cari bambini, conoscete la lettera G? G, G come gatta, G come girasole, G come golf, G come giostra, G come giallo, G come giallo, G come giraffa, G come grillo, G come grappolo. Cari bambini, conoscete la lettera H? G come Regal賞ori, conoscete la lettera F? Ha come pont Würthrum, G come небольшas cart해적 Here, Basthatosイoli, conoscete la lettera F? Aenga, bregat la lettera F? Aenga, bregati la lettera Aenga, bregat la lettera F。 Esas, brega la lettera F?. Cari bambini, conoscete la lettera I? I come Italia, I come igloo, I come isola, I come insetto, I come India, I come ippopotamo, I come indiano, I come Inghilterra. Cari bambini, conoscete la lettera J? J come Juventus, J come jeans, J come jogging, J come judo, J come jumbo jet, J come jackpot, J come joystick, J come jolly. Cari bambini, conoscete la lettera K? K, K come koala, K come kiwi, K come ketchup, K come karaoke. K come Kung Fu, K come King Kong, K come kebab, K come kimono. Cari bambini, conoscete la lettera L? L come leone, L come lattina, L come lepre, L come legna, L come lilla, L come latte, L come limone, L come livella. Cari bambini, conoscete la lettera M? M come me, M come mela, M come macchina, M come monociclo, M come mano, M come muro, M come mais, M come mulino, M come miele. Cari bambini, conoscete la lettera N? N come nana, M come nana, M come naso, M come nove, M come noce, M come nave, M come nuvola, M come nido, M come nota. Cari bambini, conoscete la lettera O? M come orso, M come orso, M come oro, M come orologio, M come olio, M come orecchino, M come oliva, M come oca, M come ovino. Cari bambini, conoscete la lettera P? P come pesce, P come pesce, P come pallone, P come pane, P come pompiere, P come porcellino, P come pirata, P come palloncino, P come palma. Cari bambini, conoscete la lettera Q? Q come quaderno, P come quaderno, P come quiz, P come quadro, P come quarzo, P come quercia, P come quotidiano, P come quadrifoglio, P come quadrupede. Cari bambini, conoscete la lettera R? R come quando, P come quadri, P come quadri, P come quadrupede. R come piuttosto, P come quadrupede. R come radi. R come rana. R come rosa. Cari bambini, conoscete la lettera S? S come scuola, S come semaforo, S come serpente, S come sole. S come spiga, S come scarpa, S come sedia, S come squalo. Cari bambini, conoscete la lettera T? T come triciclo, T come telefono, T come tamburo, T come tenda. T come tappeto, T come tavolo, T come torta, T come tigre. Cari bambini, conoscete la lettera U? U come uovo, U come uccello, U come uomo, U come ufo. U come unghia, U come uva, U come uncino, U come uragano. Cari bambini, conoscete la lettera V? U come vulcano, U come vaso, U come violino, U come vacanza. U come valigia, U come verde, U come vasca, U come vestito. U come U, U come U, U come U, U come U. U come uva, U come matusso, W come V come vustito. U come v, U come rusti, U come windsurf. U come v, U come west, U come v, U come halter. Cari bambini, conoscete la lettera T? La lettera X, X come xilofono, X come xrei, X come xl, X come xilitolo, X come xilofono, X come xrei, X come xl, X come xilitolo. Cari bambini, conoscete la lettera Y, Y come yoyot, Y come yot, Y come yogurt, Y come yeti, Y come yoga, Y come yak, Y come y, Y come yorkshire. Cari bambini, conoscete la lettera Z? Z come zucca, Z come zebra, Z come zaino, Z come zanzara. Z come zattera, Z come zuppa, Z come zampa, Z come zucchero. Z came z�리ke la lettera, Z come yoclio. Grazie a tutti.